Buongiorno a tutti. Nel Decreto Cura Italia c'è una parte rilevante anche per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali. Parliamo di quelle misure che sono atte a tutelare la perdita del lavoro e la mancata produttività per le imprese. Parliamo della cassa integrazione. L'importante novità è che la cassa integrazione possa essere richiesta anche da imprese con meno di cinque dipendenti. Anche un'impresa con soltanto un dipendente può usufruire di questo strumento. Ed ancora le imprese non dovranno più contribuire alla cassa integrazione per questa fase. Ci può essere una retroattività fino all'ultima settimana di febbraio e la durata può essere di nove settimane. Di questo abbiamo parlato con Luca Malcotti che è il segretario generale aggiunto dell'UGL nazionale che ci ha rilasciato questo importante contributo. Il decreto 17 marzo contiene molte misure economiche per affronteggiare l'emergenza coronavirus. Tra queste ve ne sono alcune che riguardano direttamente il mondo del lavoro e in particolare l'accesso agli ammortizzatori sociali. In questo momento milioni di imprese sono ferme, sono chiuse e hanno bisogno di sostegno. Il decreto introduce la possibilità sostanzialmente per tutti di accedere alla cassa integrazione con chi ha solo un dipendente con l'eccezione del lavoro domestico. Si tratta di misure che di fatto semplificano l'accesso a questi ammortizzatori. Non è più necessaria la consultazione sindacale per le aziende sotto i cinque dipendenti, fatto salvo l'obbligo di darne l'informativa. Per quelle con cui si deve fare invece si può fare in via telematica e può durare anche solo tre giorni. Si può chiedere la cassa integrazione per un periodo massimo di nove settimane e la si può chiedere con decorrenza retroattiva fino ad una data limite del 23 febbraio. Inoltre non è più prevista la tassa, l'obbligo di contributo che dovranno pagare prima le imprese ed è istituita una nuova causale denominata emergenza Covid-19. Si tratta di misure importanti per la cassa integrazione in deroga, quella cioè per le piccole imprese. Per le micro imprese si deve chiedere alle regioni, le altre invece si chiedono telematicamente all'Inps. Le regioni stanno perfezionando gli accordi per l'accesso appunto alla cassa integrazione in deroga. Si tratta di strumenti importanti, tuttavia sono ancora largamente insufficienti. Intanto sono insufficienti le risorse perché noi sappiamo che la platea è molto più ampia e che queste risorse non saranno sufficienti a soddisfare tutte quante le domande. In secondo luogo c'è bisogno di altro, c'è bisogno di più perché il paese è in ginocchio e mentre comunque ci sono questi strumenti continuano a correre gli affitti, continuano a correre i mutui, continuano a correre le bollette e il paese non ce la può fare le famiglie, i lavoratori, le imprese non ce la possono fare se non vengono immessi in campo strumenti straordinari. Come UGL abbiamo chiesto al governo una misura molto più consistente, di maggiore impatto e un sostegno più significativo ai lavoratori e alle famiglie perché dobbiamo sopravvivere a questo periodo e dobbiamo arrivarci però in condizioni decenti per poter ripartire, altrimenti non sarà così. Ce la faremo ma bisogna fare di più. Ringraziamo Luca Malcotti, segretario generale aggiunto dell'UGL per aver fatto questa disamina su quanto serve ancora oggi per il mondo del lavoro nel suo insieme, perché in questo caso dobbiamo occuparci del mondo del lavoro nella sua interezza, quindi sia da un punto di vista dei lavoratori ma anche dal punto di vista delle imprese. Grazie al prossimo contributo.